E' bella a tutti ragazzi! Io sono Ema11, eccoci qui in questo nuovissimo video. Come avete potuto vedere siamo su Nintendo Switch, non è un emulatore, oggi non so parlare comunque. Non è un emulatore ma è veramente la Nintendo Switch. E oggi siamo arrivati qui per giocare a Mario Kart 8 Deluxe. Faremo una bellissima serie, gameplay più che serie. E quindi iniziamo, sono senza parole, fatemi un applauso prima di iniziare perché mi è arrivato il pacco in tempo, giusto? Ed è la terza volta che registro il video. Comunque iniziamo subito, intanto vi spiego. Avviare il software. Perché mi ha mandato quel messaggio? Io non lo so. Però io l'ho avviato, tranquilli, tranquilli, avviamo. Ciao Mario, guarda che lo sapevo che si chiamava Mario Kart 8, non mi dovevi dare spiegazioni. Cioè, lo sapevo ragazzi, lo spero. Comunque, un giocatore, gran premio, 150 cc. Faremo il gameplay a 150 cc. Quindi faremo tutti i trofei a video. E poi, raga, se raggiungiamo i 100 iscritti, prenderò il DLC di Mario e farò anche lì i video. Sarà una cosa a parte, però fa sempre parte del gameplay, diciamo. Carta normale, chi ci sta? Quindi noi faremo tutti questi trofei ogni episodio. Cercherò di far uscire due episodi a settimana. E vi ricordo che settimana prossima non potrò farli uscire perché devo andare in vacanza. Quindi da settimana prossima in poi li farò uscire. Semmai ne faccio uscire tre settimane dopo... Sì, tre settimane perché una settimana non ho potuto registrarli. Quindi eccoci qua. Stadio Mario Kart. Bene. Ok, ultimi partiamo. Come sembri. Non capisco perché mi fanno sempre partire ultimi all'inizio. Fammi partire penultimo, ma non ultimi. Comunque, raga, benissimo. Essere già terzi è bene per me. Molto bene. Quindi sterziamo. Fungo magico. Oh, bitch! Fammi passare. Ok, raga. Giriamo. E giriamo. Comunque per chi si sta chiedendo? Io naturalmente non li vencerò quasi sicuramente il trofeo d'oro con tre stelle. Molto probabilmente vincerò quasi sempre il trofeo d'oro con una o due stelle. O ancora peggio il trofeo di bronzo o d'argento. Non sembra che ci sia. E però... Ok, non mi ha preso l'uscio. E quindi, dicevo, non li vincerò quasi sicuramente. Cioè, io cerco, ce la metto tutta. Però... Talmente sono scarso sto gioco. Non li vince. E però, dai, sto guscio qua lo odio. Cioè... Mi ha interrotto tre volte. Oh, e basta, sti gusci! Signori! Adesso, te lo prendete a un guscio. Bel guscio. No, raga, non ci credo. È mio il guscio. E vabbè, però... Cioè, raga, non ho però... Il guscio mi ha preso. Bravo, guscio! Ho fatto la ribellione a quanto parlo. Stavo dicendo che il trofeo che non riuscirò a finire con tre stelle qua su YouTube, li farò sul canale Viola. Vi lascio poi sotto in descrizione il mio canale. Registrerò... Penso ogni martedì, quindi oggi. Oggi è martedì, poi non so. Sì, oggi è martedì. Quindi i gameplay li cerco di fare martedì e sabato. Per finire Mario Kart 150cc al 100%. No, raga! No, raga, non l'avevo visto! Raga, non l'avevo visto! Secondo sono arrivato. Che tristezza, però... E vabbè, si va avanti. L'avevo detto che non lo vincevo al 100%. No, raga, le prossime le dobbiamo vincere. Ho capito perché... Colpa mia, raga. Perché non vi ho detto di iscrivervi al canale e lasciare un bel pollice in su. Quindi, raga, adesso dovete farlo. Mettete in pausa il video. Sì, sì, bravo, bravo. Avete messo in pausa. Lasciate un bel like e descrivetevi se volete che venga. Grazie, ragazzi. Questa qua la vincerà sicura perché mi avete dato l'energia. Quindi, iniziamo subito. 3, 2, 1... Pronti, e via! Vedete, raga, mi sono passato. Vuol dire che qualcuno non si è iscritto. Eh no, adesso è bravo che ti sei iscritto, lo sapevo. Sapevo che ti iscrivevi e sei un grande. Vedi, un'altra iscrizione perché il guscio non mi ha preso. Questa cosa qua è una cosa spettacolare, visto che a me il guscio mi prende sempre. Quindi, banana, la lancio. Dove vada non lo so. Comunque, raga, vi ricordo che lascio sotto in descrizione il link dei canali dei miei amici. Vi li lascio sotto in descrizione il prima possibile. Oh, oh, aspettate, raga. Eh, però! Non rallentavo! Mamma mia, io pensavo che il guscio li andava col tizio lì, visto che ho rallentato, ma Mario Kartet lo dovrebbero rifare. Scherzo, raga, Mario Kartet è deluxe, è bello così com'è. Visto che l'hanno già rifatto una volta, perché questa qua è la versione deluxe. Perché il primo Mario Kartet, cioè quello che si chiamava solo Mario Kartet, è uscito su Wii U. Comunque, raga, un sacco di giochi li hanno rifatti perché la Wii U, diciamo, è fallita miseramente. Tipo Mario Kartet, vabbè, questo qua hanno fatto la versione deluxe, ma... Cioè, vabbè, alla fine il gioco è quello. E poi hanno fatto il Super Mario 3D World, mi sembra. Oh, avete visto, ha tutito il colpo. Praticamente mi ha colpito solo il primo guscio, che quello lì fa meno danno, diciamo. Non mi ferma per due ore. E raga, ha tutito il colpo. Pensare che questa roba qua l'ho scoperta cinque giorni fa, perché stavo giocando, e una Peach, mi sembra, sì, Peach, mi ha lanciato il guscio, quello verde. Intanto da dietro arrivava il guscio, quello blu. Praticamente ho scoperto questo terrioletto e barbio, ma alla fine non è un barbio. Voi non so come lo considerate voi. Vinto! Comunque, vi spiego una cosa che mi ha fatto impazzire. Una volta, ero al traguardo, ero primo, era l'ultima corsa per vincere tre stelle, e uno mi ha lanciato il guscio e mi ha preso. Ma ero un centimetro. Raga, sto soffrendo un sacco per questa cosa. Cioè, sono stristissimi. E comunque, ragazzi, ve l'avevo detto che la vincevo, perché vi siete iscritti, naturalmente. Quindi, raga, per chi non lo sia ancora iscritto, iscrivetevi, se no la perdo miseramente. Io ve lo dico. Uomo avvisato, mezzo salvato. Iniziamo subito. Basta. Comunque, raga... No, dai, raga, l'ho fatto partire... Non capisco, perché certe volte, quando lo faccio partire a due, mi dà quella scossa lì del tre. Però, vabbè, raga, non lo so. E poi, quelli che lo fanno partire, diciamo, quella velocità lì, maggiore, diciamo, quel turbo, ho scoperto che quelli secondi, cioè, quelli, tipo, se io sono primo, c'è gente seconda, e quelli lì, vanno sempre più veloci di me. Questa roba qua non la capisco. Volè! Dai, adesso, raga, qualcuno non si è iscritto, eh? Devo venire a vedere chi si è iscritto e chi no? Perché qua mi sembra che qualcuno... Oh, eh, bravo, bravo. Eh, no, no, no. Signori, dovete scriverli. Se no, avete visto come sono diventato prima e come sono diventato secondo? Ma, se adesso qualcuno si iscritto, quello lì lo superò malissimo. Infatti, grazie, raga, cioè, siete bravissimi. Comunque farò un sacco di gameplay, cioè, non farò solo Mario Kart 8. Il 9 del 9 del 22, cioè, sarà settembre, il 9 settembre uscirà Splatoon 3, signori, uscirà Splatoon 3, e io ve lo porterò. Il 9 del 9, perché io lo preordinerò prima, perché a me è un gioco che mi piace un sacco, al day one, nel prenoto. E quindi, il 9 del 9, vedete, il primo episodio di Splatoon 3, faremo sia la storia, sia online. E secondo me, raga, è una bomba, faccio. Ok, raga, se adesso mi superano, io me la rai. Io ve lo dico. No! No, no, raga. Raga. Ma io... No, Mario Kart 8. Ah, no, vabbè, raga. Ma gli altri, quanto sono indietro gli altri? Signori, cos'è successo? Cos'è? Cioè, raga, adesso io qua mi potrei fermare, cioè, raga, lamentiamo tanto. Ho avuto paura. Ho avuto paura. Comunque, se vi dà fastidio la mappa, scrivetemi nei commenti e io ve la tolgo. Cioè, a me mi piace. A me mi non si dice. Però sono buona le croccantelle di a me mi. A me mi. Avete sentita la pubblicità? Scommetto lì. Ok, raga, ultima mappa, rovine di pump. Questa qua la perdo sicuro, perché io questa qua le ho sempre perse. Infatti, strano che ho perso la prima. Strano, strano. Amos. Siete testimoni? C'è il 2. Infatti, sono partito. Quando vi dico di vedere, il gioco mi fa partire. Ok, signori. Comunque, poi, in una live vi lascio un sondaggio dove alla fine di Mario Kartete, quindi quando mancheranno pochi trefei, vi lascio un sondaggio e vi dico quale gioco dovrei giocare come prossimo gameplay. Poi ve lo dico, lascio un sondaggino magico. Ok, si passa. Si vola. Giuto? Eh, vabbè. Cioè, ragazzi, ho la sfortuna. vediamo. oh yes. Ragazzi, che paura. Ragazzi, che paura. Oh sì. Oh sì, non lo so. Aspettate, ma vuol dire che c'era gente ancora lì? vabbè. Non lo so. Monetina magica. che pelo che l'ho fatto. Ma quanti funghetti che hanno preso non lo so. Non lo so. Oh, raga, mi dispiace di non aver vinto la prima, di non aver vinto la prima, secondo e... qua l'abbiamo vinto tutte. Sono molto dispiaciuto. piaciuto. Non so se si dice, chiudiamo un occhio. Allora, vediamo vari risultati. Vari risultati. Vediamo cosa ci esce. Due ore, comunque. Eccolo qua, Mario. Guardate come è bravo. Fa... come si chiama lì? L'ho strezzato. Sper bravo. Eccolo qua che arriva. Vola. Secondo, primo, primo e primo, raga. Secondo, primo, primo, primo. Trofeo d'oro e... Due stelline, ragazzi. Benissimo per iniziare. Aspetta, hai raccolto i 2.900 monete. È stato sbloccato un pezzo per personalizzare il tuo veicolo. Raga, seriamente, prima di concludere il video, dobbiamo vederlo. Dobbiamo vederlo. Ah no, giusto. Se veramente volete vederlo, lasciate un like e iscrivetevi. Ve lo farò vedere la prossima puntata. Lo so che starete di... Mi starete... Oh, raga, taglio, raga, taglio, non so parlare. Lo so che state pensando. Non so cosa state pensando che sono ma talmente cattivo. Però, ragazzi, mi dispiace. E anche per me sono cattivo visto che non potrò vederlo per un po' di giorno. E quindi tu, ragazzi, per questo video qua è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao! Ciao!